Diciamo che possiamo ripartire. Intanto vi diciamo che se sei d'accordo vado assolutamente in condivisione di schermo e ci portiamo nello spazio di Guardian. State vedendo? Sì, ecco c'è anche la nostra Chiara, Chiara Pisoni, benissimo. Se c'è Paolo Siccardi si parte, pronti via. A te Emanuela Lombardi. Ecco, buongiorno a tutti. Inizio ovviamente ascoltando i colleghi ho riscontrato molte delle problematiche o delle opportunità che loro hanno vissuto. Anche se diciamo il nostro progetto è un progetto forse più puntuale rispetto soprattutto a quello per esempio di Arco Blu che devo dire è molto complesso probabilmente nella sua esecuzione e anche per gli intenti che ha di collegamento della rete ecologica. Noi forse abbiamo avuto minore difficoltà proprio perché sono tutti progetti Guardian all'interno ha dei progetti puntuali e quindi in un certo senso di più facile realizzazione. Ciò nonostante una difficoltà che noi abbiamo avuto è soprattutto quella di progettare in particolare per le scale di risalita del Consorzio dell'Oglio e del Comune di Toscolano di affinare la progettazione perché probabilmente anche gli ingegneri stessi che hanno in carico il progetto non essendo un'opera semplice un'opera diciamo classica perché non è una casa non è una diga è una scala di risalita questa per essere progettata in maniera adeguata deve in qualche modo tenere in considerazione molti aspetti ingegneristici ma proprio anche legati alle caratteristiche biologiche ed ecologiche dei pesci che ovviamente poi Germano sa perfettamente infatti con un PBS proprio grazie alla loro presenza nel nostro partenariato ha dato veramente una mano e sta dando una mano nella progettazione proprio per affinare certi meccanismi certe modalità di risalita non per niente abbiamo avuto anche un abbiamo un partner svedese e l'associazione pescatori si è recata più volte all'estero proprio per visionare le loro scale e apprendere le loro le loro pratiche o comunque le loro le caratteristiche di queste di queste scale quindi questa sicuramente è stata una prima difficoltà interna tra virgolette un'altra difficoltà forse è quella di organizzare le attività di comunicazione che per noi sono sono state molto importanti e ci crediamo anche molto perché il settore della fauna itica è un settore come dicevamo spesso poco conosciuto da tutti me in prima persona e questo forse mi ha fatto anche comprendere meglio la necessità di conoscere questo 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 mondo che è poco percepito anche dalla dal pubblico in generale quindi necessita davvero di essere comunicato quindi abbiamo cercato poi magari lo lo spiegherò meglio un po di di trovare dei delle connessioni che possa potessero essere efficaci un altro difficoltà interna è stata quella di avere un po come anche gli altri partner delle velocità diverse tra di noi quindi alcuni enti hanno già concluso i lavori e quindi hanno speso hanno investito denaro però altri invece sono all'inizio per cui nelle rendicontazioni che noi ovviamente oltre all'anticipo c'è la prima rendicontazione siamo un po sfasati per cui qualcuno non ha speso ancora nulla o poco altri hanno già speso tutto però non possiamo in qualche modo eh dargli eh il saldo di questi lavori quindi eh questo è una è un elemento che giro pari pari a seccarvi eh questa piccola difficoltà soprattutto per esempio non so le torbiere del sedino che sono piccoli enti che hanno della un budget complessivo annuale limitato il fatto di dover spendere ottantamila euro per dei lavori per loro è complicato poi riuscire a a mantenere eh il debito insomma eh così per così tanto tempo ostacoli altri ostacoli mh esterni sono dovuti vabbè eh ovviamente alle questioni burocratiche eh legate al fatto che tanti enti devono partecipare all'autorizzazione mi riferisco sempre un po' alla alle scale di risalita perché c'è appunto la regione poi c'è la questione degli degli enti locali un po' anche se diciamo forse è anche abbastanza naturale che questo ci sia un altro un altro diciamo ostacolo che sembra quasi assurdo ma è quello dei cormorani e l'ho inserito per far capire come queste progettazioni sono molto eh legate al territorio e come eh questo problema che non è che si sta iniziando a trattare ora di fatto inficia un po' tutto anche non dico la buona riuscita di dei progetti in sé però diciamo che è un elemento molto ehm negativo sulla eh sulla fauna ittica e sta creando eh notevoli difficoltà perché ha collegato a questo mondo delle scale di risalita ehm delle della della valorizzazione delle coste degli ambiti lacustri ci sono poi il nostro obiettivo principale che è quello di aumentare il capitale lacustre eh capitale che viene costantemente minacciato dai cormorani dalla presenza ehm di specie non eh non autotene come sappiamo che sono il gambero eh e anche il scusa mi sfugge il nome eh ho un lapsus germano il aiutami pesce siluro pesce siluro scusa e quindi eh questo sono tutti elementi che sono esterni però eh sono piuttosto presenti altri imprevisti ovviamente sono l'aumento dei costi come abbiamo già visto ma a noi in particolare per il fatto che le infrastrutture come quelle delle scale di risalita sono proprio eh i costi sono hanno inciso proprio su questi mi faccio faccio l'esempio del consorzio dell'olio che ha dovuto in qualche modo inserire e e diciamo trovare risorse aggiuntive a quelle che aveva eh stabilito inizialmente e che quindi oggetto di finanziamento quindi questo sicuramente ha rallentato un po' la loro la loro esecuzione ma fortunatamente adesso si sono diciamo assestati e sono in 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 questo momento stanno facendo l'appalto delle opere quindi questo veramente molto positivo l'ho già detto quello delle velocità diverse tra vari partner e questo in in qualche modo eh rallenta anche non dico la comunicazione ma ci troviamo sempre un po' su livelli diversi e quindi chiaramente se uno ha già finito i lavori non è così più interessato rispetto ad altri che magari magari sono ancora in corso d'opera eh abbiamo fatto un piccolo accenno sulla carenza d'acqua che per noi devo dire non è non è stato del tutto negativo proprio perché eh adesso ovviamente eh facciamo ho fatto una considerazione di breve periodo nel senso che eh il fatto che non ci fosse troppa acqua ha facilitato in qualche modo i lavori nella riserva perché ovviamente i mezzi non dovevano sprofondare nell'acqua e hanno potuto fare i loro scavi in maniera tranquilla la stessa cosa il consorzio dell'olio dice che eh la carenza d'acqua gli permetterà di fare i lavori con maggiore agilità rispetto al fatto eh che ci sia molta acqua perché ovviamente i lavori in alveo non sono così agili lo stesso per gli altri lavori puntuali che abbiamo lungo le coste ehm dei nostri laghi per quanto riguarda i risultati ehm abbiamo avuto abbiamo iniziato da da qualche mese l'attività eh di divulgazione di sensibilizzazione nelle scuole attraverso i nostri partner sia o PBS che eh Slow Food Lombardia ecco faccio mh apro una parentesi relativamente alle difficoltà che sono poi le stesse che sono avvenute anche per gli altri partner anche noi abbiamo un po' sofferto la carenza di alternanza mh alla diligenza per esempio di Slow Food che ha hanno cambiato tutti diciamo il il gli assetti e questo anche anche a noi ha un po' diciamo rallentato le attività perché loro si dovevano rinominare il presidente hanno avuto le elezioni e questo sicuramente è sempre un elemento di eh di squilibrio ehm i risultati che noi abbiamo visto che parlando anche con i con i colleghi nella stanza prima è stata sicuramente la possibilità di avere un dialogo tra di noi di poter trovare l'occasione di di parlarci ehm di di conoscere questo mondo e eh come dicevo prima il fatto che anch'io non sia ehm ferrata sul sul mondo itico mi mi fa ancora di più percepire la necessità di comunicare perché anch'io ogni volta che ascolto eh queste le problematiche legate mi rendo conto di quali interconnessioni ci sono al di là di ogni eh veramente eh al di là della più fervida fantasia perché è un mondo poco esplorato e rispetto quindi a tutti gli altri progetti che abbiamo ascoltato probabilmente questo il questo progetto Guardian eh facendo il focus sui pesci è un po' allo stadio iniziale di di eh di sviluppo perché proprio ehm è come se fosse una una materia poco eh trattata eh anche dagli enti tutto sommato dal dal territorio e quindi è poco percepita e siamo un po' all'inizio del del nostro lavoro ehm come dicevo prima proprio una di una delle delle degli elementi che ho che sono emersi è proprio l'interconnessione ecosistemiche ne parlevamo prima con Germano proprio questa eh questo importanza tra ehm gli incubatoi eh i laghi il il la qualità delle acque il la qualità degli ambienti le 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 emissioni e quindi è quello che viene invece eh pescato quello che viene eh diciamo raccolto e eh in qualche modo anche distrutto dal dagli animali o comunque da da questi cormorani quindi ci sono tanti elementi che continuano a eh a premere su questa risorsa che invece è molto molto importante appunto la consapevolezza l'ho detto adesso della della capitale della costra mh eh gli apprendimenti che abbiamo visto sono soprattutto quello della divulgazione che è sempre più efficace e richiesta i ristoratori sono sempre molto più eh interessati a capire ehm questa questa questo nuovo questo questo aspetto e quindi ci premono proprio anche per aiutarli a divulgare le caratteristiche eh dei pesci e cercare di creare anche una una nuova eh sensibilità poi eh verso gli utenti e infatti proprio rispetto a questo a questo fattore abbiamo sviluppato quella che è tutta la comunicazione eh rivolta alle scuole rivolta ai stori ristoratori come sapete noi andiamo anche nelle scuole erbeviere stiamo cercando di far capire eh cosa sono le caratteristiche ecologiche quali sono eh e cosa serve per valorizzare eh i pesci eh il PDS sta facendo infatti anche un buono puscolo dove vuole inserire tutte queste nozioni eh ci sarà quindi praticamente delle schede sul sulle sui pesci sull'ecologia sulla caratteristiche organolettiche sul loro ambi e sul sul loro diciamo ambito di azione eh sicuramente sarà un elemento molto importante eh per quanto riguarda io sono veramente molto veloce per quanto riguarda l'ultima l'ultima slide che non abbiamo compilato sono poi quattro punti che vi dico velocemente che sono sicuramente anche noi eh eh dovremo l'attività che proseguono in che proseguono sono soprattutto un consolidamento della governance cioè continuiamo sempre di più e sempre meglio devo dire a comunicare tra di noi ci conosciamo meglio sappiamo eh chi conosce una cosa rispetto un'altra ci capiamo quindi anche molto più in fretta e sono sicura che questo ci permetterà di arrivare agli obiettivi in maniera più più veloce perché quello di conoscerci di conoscersi è veramente eh trovo che sia veramente molto importante perché non è sufficiente eh comunicare magari con i progetti o con o con degli obiettivi puntuali molto spesso eh discutere tra di noi fa emergere delle eh delle sfumature che sono invece poi determinanti per comprendere il progetto e poi eh ovviamente renderlo più più efficace il abbiamo sicuramente un le collaborazioni che proseguono in che modo le collaborazioni sono sempre quelle eh che ho detto prima quindi collaborazioni con UPBS che è veramente stato un partner probabilmente quello che ha fatto da collante a tutti noi perché eh noi siamo gli altri partner sono enti pubblici quindi comuni che normalmente hanno l'ufficio tecnico e che si occupa eh soprattutto delle delle infrastrutture quindi ha una un focus legato alla realizzazione dell'opera senza però capire qual è il contesto e quali sono poi le ripercussioni invece UPBS ci ha proprio messo di fronte a tutte le correlazioni eh che ogni azione ha sul territorio e questo ha arricchito sicuramente tutti noi questo eh lo devo proprio dire abbiamo avuto anche la conoscenza anche mh delle eh migliore di quelle che sono le le la realizzazione delle scale di risalita che sicuramente potranno essere utilizzate poi in un futuro da qualsiasi altra ehm attività altri enti che vorranno magari a loro volta rifarle perché come dicevo prima non ci sono professionisti che sono esperti in scale di risalita oltretutto ogni scala ovviamente eh deve essere costruita in un certo modo in funzione dell'ambito in cui va a essere realizzata però eh già farne due in questi due ambiti diversi ehm ci dà una buona base di partenza ci può dare infine ehm una sicuramente c'è la replicabilità dei progetti le prospettive quali campi e la replicabilità dei nostri progetti che potranno essere che sono veramente replicabili in tutti i laghi come abbiamo già visto in tutti gli ambiti perché sono proprio specifiche per le sponde lacustri o le sponde dei torrenti le prospettive inoltre è quello proprio di altre prospettive sono quelle di implementare il più possibile eh la conoscenza del capitale della faunaitica capitale lacustro capitale lacustro e questo sicuramente è una una prospettiva che dobbiamo far eh sostenere e e far diciamo veramente progredire perché trovo che sia un campo ancora un po poco troppo poco esplorato e che nonostante e che ha delle diciamo dei collegamenti delle relazioni che non sono assolutamente secondaria a nessuno io ho fatto velocissimo se avete domande se qualcuno Germano vuoi introdurre ecco poi magari se posso intervenire un attimo ci tenevamo in maniera particolare a a ago il pesce di lago sicardi è stato così gentile da mandarci anche il suo intervento quando l'abbiamo presentato in regione lombardia c'era stato chiesto di creare appunto eh un logo noi abbiamo voluto al contrario creare un ambasciatore e un personaggio eh a modi fumetto che potesse racchiudere la possibilità di comunicazione sia all'adulto al ragazzo ma in maniera un attimino diversa quasi come che eh l'ambasciatore ago il pesce di lago fosse una persona terza che portava poi dopo ai giornali o a a chi di dovere le segnalazioni perché altrimenti è Germano eh è Antonio è Francesco ma alla fine siamo sempre visti come quelli che per forza di cose lo dicono perché devono sostenere l'associazione piuttosto che un'altra cosa mentre invece questo ci ha permesso di poter essere veramente diretti e non a caso anche con le torbiere eh che anche loro stanno portando avanti un discorso a livello fumettistico cercheremo di eh interfacciarsi ancora di più alla realizzazione di questo aspetto comunicativo vabbè è un po' anche il mio mestiere far comunicazione e giornalismo però indipendentemente da questo si è proprio voluto andare a sottolineare un'immagine che potesse essere una volta vista un ricordo immediato da quello che è le difficoltà che diceva prima di far conoscere i pesci purtroppo lo ripeto l'ho detto prima anche nell'altra riunione i pesci hanno una grande sfortuna di non avere le ali e di non essere mai visti quindi di conseguenza come ha tutto il diritto di vivere il cormorano ha tutto il diritto di vivere la marmorata il carpione e tutti gli altri pesci che purtroppo spesso e volentieri non vengono valorizzati per quello che sono però in tutto questo contesto tra il guardian tra tutte le le operazioni che abbiamo visto presentare in maniera direi ottima eh guarda caso c'è sempre un collegamento quindi noi gestiamo gli otto incubatoi e i due regionali e nelle valli eccetera come come del resto noi anche tantissime altre associazioni e siamo forse gli unici che hanno la fortuna di riconoscere dal vivo le problematiche vere sotto questo aspetto anche se ci sono naturalmente associazioni ambientaliste eccetera che lo fanno però come devo difendere il bufo bufo dovevo difendere la salamandra e scusatemi ma abbiamo la marmorata che è l'unico pesce eh che abbiamo in un contesto mondiale o il carpione ancora di più quindi capite l'importanza anche di questi aspetti e quindi benvengano tutte queste situazioni con Fondazione Cari con tutte queste realtà e come dicevo prima quando noi eravamo ancora collegati con Graziano Maino eh si è notato almeno ascoltando un po' tutte quelle che sono le le realtà eh presentate che tutte bene o male hanno un filo conduttore purtroppo quello che sì che che noto è che c'è questa sete da parte del territorio di voler migliorare le situazioni ma c'è sempre questa grande difficoltà comunicativa dove in ogni caso si trovano tutti nelle stesse condizioni di difficoltà di comunicazione di concertazione da un lato il covid forse ci ha dato l'opportunità di incontrarci visivamente e più rapidamente con questi mezzi che stiamo utilizzando anche oggi forse proprio questo aspetto ci aiuterebbe anche a a migliorare un po' questo legame col territorio un po' le province che non sono più province un po' le regioni che non sono più regioni c'è proprio questa mancanza che noi tutti i giorni incontriamo dove ma chi è che ci può portare questa urgenza in questo momento piuttosto che in un altro quindi manca e queste situazioni secondo me potrebbero aiutare tantissimo quindi un grazie naturalmente a fondazione carico e a tutti voi che state portando avanti questi aspetti noi nel nostro piccolo da pescatori insomma non ci sono più pescatori una volta che si mettevano cioè sono molto più preparati le associazioni hanno persone all'interno sia a livello locale che nazionale o regionale molto molto preparate sotto gli aspetti scientifici e di voglia di dare una mano con le proprie esperienze grazie germano dire a tutti voi che siamo andati un po lunghi quindi non facciamo una seconda parte ritornando a dividerci in gruppi adesso abbiamo ancora qualche minuto così come germano ha sottolineato degli aspetti credo importanti cioè ad esempio il tema è stato detto un po da tutti i gruppi questo tema eh delle disallineamenti delle amministrazioni noi sappiamo che ad esempio i cambi amministrativi mi capita spesso di sottolinearlo sono una cosa buona una cosa giusta è la fisiologia del del sistema istituzionale si rieleggono delle amministrazioni comunali non sono eh si rieleggono dopo cinque anni quindi questo è una cosa giusta è è la vita democratica di una nazione però creano oggettivamente delle discontinuità gli spostamenti eh da un lato creano movimento ma creano anche delle discontinuità rispetto a dei lavori avviati prima è stato sottolineato come un elemento che è stato incontrato nelle diverse progettazioni quindi volevo chiedervi qualche minuto se avete piacere di di prendere parola magari c'è il desiderio di portare un